Sai che cosa sono queste? Polpastrelli blu sono. Mi hanno preso le impronte. A me le avevano già prese un'altra volta. Mi hanno preso le impronte. A me. Io fra sei mesi devo fare il concorso per la cattedra. Non lo posso fare, non lo posso fare se ho precedenti penali. Vabbè, la strada è finita abbastanza male, però sono cosa a chiederti scusa. Abbastanza male? Ci hanno arrestato. Vabbè, è finita una tragedia, è finita malissimo. Però quello che è successo prima non si può cancellare. Perché? Che cosa è successo prima? Come cosa è successo? Tutta quell'elettricità che c'era? Io che ti dicevo frazze di senso compiuto? Giorgio, tu vivi un mondo tutto tuo. E non ti piace? No, non mi piace perché si finisce arrestati. Tu vivi un mondo tutto tuo, ma il mondo non è tuo. E anche degli altri non lo puoi costruire come una macchina. Forse dovrei farlo. Che cosa? Costruire un mondo tutto mio. Giorgio, era una metafora. Tu ci verresti? Non lo puoi fare! Magari sì, invece. No, non lo puoi fare. Tu pensi di essere un genio, ma non sei un genio. Tu costruisci giocattoli che sistematicamente ti fanno arrestare. Ok? Basta. Io devo andare. Ciao, Giorgio. No, non lo puoi fare. Grazie.